Siamo qui con Castellani dell'Orione, una sconfitta che fa male, la vada in vantaggio, il rigore è parato da russo, poi qualcosa ne è andato. Tutta la mentalità della squadra che non c'è sta, purtroppo si sono sentiti in campo, sono stati in qualche battito vecchio, ma è così. Quando non riesci a capire mentalmente la situazione vai sotto, c'è un cazzo dopo. Si deve ripartire dall'ottimo primo tempo per le prossime gare? Sì, dobbiamo metterci testa bassa, lavorare e impegnarci, basta, è inutile parlare al calcio se poi i piedi non vanno. Quindi queste sono le cose, testa bassa e pedale. Grazie a Castellani, in bocca al lupo per le prossime. Ok, ciao ciao.